Quando si realizza un'opera di questa portata è vero che risultano agli onori della cronaca gli appalti più importanti che valgono centinaia e centinaia di milioni. Abbiamo anche questi, ma abbiamo anche già realizzato parti d'opera attraverso contratti di appalto ben più modesti, ben più limitati e senza in questo voler favorire piccole imprese, medie imprese e grandi imprese. Il taglio degli appalti che bisogna dare quando si realizza un'opera di questa portata deriva dalla logistica di costruzione. Quindi deriva da fattori che sono ben diversi da quelle che sono le aspettative delle imprese piccole, delle imprese grandi, delle imprese nazionali, delle imprese internazionali. Deriva da altri fattori che sono fattori oggettivi e che appunto sono strettamente connessi alla logistica di cantiere. Quindi in futuro avremo appalti molto più consistenti di quelli che abbiamo sino ad oggi avuto, ciò nonostante avremo ancora prestazioni da realizzarsi attraverso contratti di appalto più modesti, come quelli che abbiamo sin qui appaltato, che abbiamo sin qui affidato alle imprese italiane ed estere che hanno concorso alle nostre gare d'appalto. Ripeto, su un progetto così importante, così ampio, la possibilità di partecipare alle gare d'appalto e di vincerle realizzando importanti parti di lavoro c'è per tutti. Quindi non mancheranno le occasioni per le piccole e medie imprese, così come per le grandi imprese. Grazie. Grazie.